L'idroscalo ospita i campionati mondiali di Canoa e Paracanoa. Come si sta preparando Città Metropolitana a questo importantissimo evento? Un importantissimo evento. Io credo che si rivolga la Città Metropolitana non solo ai cittadini della Città Metropolitana, ma a tutti i cittadini del mondo, perché avere l'idroscale in un posto bellissimo, gioioso, il mare di Milano, ma soprattutto un luogo dove il sabato e la domenica tantissime, migliaia e migliaia di persone vanno a divertirsi, a svagarsi, a riposarsi. Il campionato mondiale di Canoa e Paracanoa è un motivo di orgoglio e soprattutto è un motivo di capacità della nostra città, della nostra città metropolitana, di parlare al mondo intero. Avremo tanti sportivi, avremo tante persone curiose, invito tutti a esserci dal 19 al 23 agosto, perché sarà bellissimo vedere l'idroscalo ancora di più rinnovato, ma soprattutto ancora più internazionale.